Si terrà domenica 17 febbraio alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale Santa Teresa del Bambin Gesù a Taverna delle Rose la festa della famiglia. A partecipare l'arcivescovo Antonio De Luca che presiderà il solenne pontificale e che successivamente terrà una relazione sul tema La Famiglia, Tempio della Trasmissione della Vita, dell'Amore e della Fede.